Un oggetto così piccolo è stato difficile da trovare e dimmi gli spiriti dei caduti urlavano e gridavano avvolgendo con le fredde dita la tua gola hai una fervida immaginazione e sia un dono che una maledizione che succederà alla fine delle prove beh dovrò affrontare mio padre pensi che mi darà ascolto sii forte e fiero ti ascolterà l'ultima prova è prendere la barba dalla statua del grande faraone sarà emersa dalle sabbie il simbolo del potere è la barba un bambino diventa un uomo quando ha dei peli sul mento ci rivedremo al sacrario di orsaset grazie grazie grazie